Carissimi amici, benvenuti a Questa è la difesa e buon 2023. Come vi avevamo annunciato abbiamo pensato ad alcune novità per questo nostro spazio e questa settimana cominciamo subito a metterle in pratica. Cosa facciamo? Questa settimana riflettiamo insieme brevemente su una lettera che ci è giunta nei giorni di Natale. Lettera su cui avevamo anche noi della difesa fatto un editoriale sempre in quei giorni prima di Natale quando è scoppiato il drammatico caso del Qatargate, cioè il caso di corruzione più grosso che abbiamo riscontrato finora nella storia del Parlamento europeo. Come sapete sono stati trovati letteralmente sacchi di soldi a casa dell'ex europarlamentare del PD Panzeri e della ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Caili. Le indagini stanno andando avanti, in questi giorni si sono allargate a macchia d'olio, è veramente qualcosa di preoccupante perché ci dà l'idea che anche la democrazia possa essere in vendita a pannaggio di chi ha le risorse economiche e energetiche per fare in maniera che anche un Parlamento eletto da circa 400 milioni di cittadini europei possa essere influenzato con le tangenti. Ebbene, il signor Todaro Gottardo di Acqua Petrarca ci ha mandato una lettera proprio su questo. Rievoca i tempi, pensando a politici e amministratori, in cui, parliamo dell'89-90, lui stesso ha frequentato la FISP, che è la scuola di formazione all'impegno sociale e politico della Diocesi di Padova. Allora ha avuto un giovane relatore che si chiamava Armando Gennaro. Armando che abbiamo tra l'altro compianto proprio nel 2022, appena trascorso, quando si è spento mentre ricopriva la carica di presidente dell'Irpea. Dunque, provate un po' a immaginare la differenza di stile e di sostanza, come persona, come politico, come amministratore, tra Kylie, Panzeri, anche Giorgi, che è l'assistente parlamentare ancora incarcerato, che all'inizio si è addossato tutta la responsabilità per lo scandalo, Qatargate, e Armando Gennaro. Quando Gennaro si è presentato alla FISP e ha fatto la sua relazione, ha raccontato come la sua casa, scrive Todaro Gottardo, venne sommersa da pacchi regali e doni di ogni specie, che lo lasciarono sconcertato. In accordo con la sua famiglia fu presa una decisione, quella di restituire tutto. Allora, con le sue 500, raccolse tutti i regali ricevuti e li riportò personalmente ai singoli mittenti, ringraziando del pensiero, ma sottolineando altresì che non era proprio il caso. Ok, provate a immaginare un giovane eletto che restituisce quanto ricevuto e questi professionisti della politica che anzi non hanno remore nel macchiare l'immagine di una istituzione come l'Europarlamento pur di incassare personalmente. In questi giorni riflettevamo, cari amici, l'11 di gennaio, tra pochissimi giorni, ricorre il primo anniversario della morte di David Sassoli. La commozione per questo fatto un anno fa ha attraversato tutto il pianeta per lo stile con il quale è riuscito a incarnare la carica proprio di presidente dell'Europarlamento. Proviamo a chiederci, a immaginarci come avrebbe vissuto uno scandalo del genere. Speriamo davvero di riuscire a creare gli anticorpi perché la corruzione non intacchi veramente il nervo del sistema. Grazie per l'attenzione, ci vediamo la prossima settimana.